Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash ed oggi siamo in un nuovo episodio di The Binding of Isaac Afterbirth Allora ragazzi, eeeh... facciamo una partita, stavolta con chi? Allora abbiamo fatto con tutti i personaggi che abbiamo sbloccato, almeno il cuore Quindi si, mi sa che è l'ora di partire e fare una partita con Eden La particolarità di Eden è tutto randomico, a proposito di randomico Allora, Seed, 9E2B8CMQ E ora devo un attimo mettere la Missing HUD Perfetto Allora abbiamo un danno discreto Abbiamo il Shoop da Whoop Che ha ucciso tutti tranne quello che mi fregava di più Ok, ancora un paio di colpi Ok, sistemato Allora, quindi, Eden, oltre a cambiare pettinatura ogni volta che lo utilizzeremo Che, cioè, non cambia niente Nemmeno credo Eeeh... Ha anche... parte con oggetti randomici ogni volta Ma... Vabbè, forse è... beh, è buono Se sia... è buono che loro sono rimasti in vita Intanto mi dovrei anche abbassare un po' l'audio del gioco Che è veramente alto Ok Dove sei? Aspettate un attimo ragazzi Scusate Intanto il Seed ecco qua Non so se ve l'avevo già detto Boh Che se lo ricordo Eeeh... io farei prima di tutto il boss Ehi, partiamo... ah sì Partiamo comunque con Shoop da Whoop E Gappi Scolla Ah, non l'avevo visto Comunque E' un buon personaggio Aiden Io... cioè E' uno dei motivi per cui io sto continuando a giocare Anche se con l'altro account L'altro file di salvataggio dove E' tutto pieno Ho fatto già tutto Perché Aiden E' come giocare sempre con un personaggio diverso Che non hai mai provato prima d'ora E' questo il bello di usare Aiden Intanto qua abbiamo The higher of hunt Yes Tears up Questo ci fa Ci fa un Effetto ondulatorio Nelle nostre lacrime E secondo me è qui sotto Non è qui sotto Ci teniamo l'effetto ondulatorio Perché? Perché? Perché si Ci fa qualcosa di positivo? No Ci potrebbe anche Potrebbe anche essere Negativo per certi aspetti Ma A noi non ce ne frega Una beata Ah Questo ci fregava invece Proprio nel cuore Intanto Qua Ne vale la pena Sì E vediamo se qua c'è anche una secret room Non c'è Peccato Però Ora abbiamo davvero tanti soldi Allora qua Lo utilizzerei Tanto abbiamo la ricarica D'altra parte Quindi Guarda il melicale Non mi ricordo mai cosa fa Però Dai Almeno non credo Mi possa servire Tu sei veramente veloce Te l'ha mai detto Nessuno Ok Forse è meglio È il caso di lasciare Wiggleworm Sarà simpatico Però È molto fastidioso Money equals power Molto buono È un 48 hour energy Money Eh Money equals power Significa Più soldi abbiamo Più Eh Abbiamo danno Infligge Più Danno Infligge Agli avversari Quindi Da prima che eravamo Tipo 2 virgola qualcosa Ora siamo A 4 virgola 12 Niente male Niente male Intanto userei ora The stars Che ci dà Infestation Quando Se non sbaglio Eh Quando uccidi Un nemico Tipo Spawnare Eh Quando Uccidi un nemico In teoria Dovresti Avere la possibilità Ci dovrebbe essere La possibilità Che spawni Una mosca Era così L'effetto Non mi ricordo E allora È sicuro È sicuro Che è così Con Infestation 2 Ma con questo Non lo so Dovrebbe essere La stessa cosa Allora perché Non ho Nessuna Nessuna Mosca Eh Boh Accidenti Allora per questa partita Proverei anche A sbloccare La bene amata Maggie Magdalene Perché È un personaggio Che bisogna sbloccare Solo che È quel personaggio Che sblocchi Sempre all'inizio Quando Non sai niente Sul gioco Perché poi Sai le strategie Ad esempio In questo momento Sono pieno di soul art E i soul art Sono decisamente meglio Dei red heart Almeno in questo In questo momento E quindi Cerchi di toglierti Anche i red hearts I red farts Easy peasy Lemon squeezy Ora però Muori easy E non bloccare E non cercare Di scappare Usando Le tue stesse feci Ok Torn photo Molto buono Vediamo cosa c'è Ok Niente di interessante E sono felice Perché così Uno Possiamo avere Un angel room Due Possiamo anche avere E Così abbiamo anche Più Red Più Corri rossi Più red hearts E quindi Aumentano Le Possibilità Di avere Di avere Sbloccare Magdalene Curse of the tower No grazie Health up Molto buono E Hirmat emesis Che ci ha Aiutato Curse of the tower No grazie Non lo prendo Non mi è mai piaciuto E non piace Nessuno Tranne In determinate Ciscostanze Come ho fatto a schivarlo Non lo so Però l'ho schivato Quindi Un applauso Un applauso Grazie 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 Ah ok Quando subisco Danno non mi ricordavo era così a quanto pare ogni volta che subisco danno questa qui non sarà una bellissima stanza sono stato stupido sono ancora in vita? vai muori bravo 1 2 1 2 1 2 accidenti non l'ho toccato? cosa? ok e non mi ha dato niente che monello siamo stati nell'item room? non ancora not yet allora buono qualcosa c'è qui? scaping out ok anzi punch in bag o come lo chiama rage gaming gerald che è un nome meraviglioso ah non meraviglioso come questo colpo ok abbiamo fatto molto bene ad entrare qui abbiamo fatto decisamente bene abbiamo solo guadagnato non abbiamo guadagnato chiavi ma abbiamo guadagnato tutto il resto attacco anche grazie al nostro al nostro culo al nostro più che al nostro culo al nostro come dire la nostra bravura nell'utilizzare al momento giusto e nel fare le decisioni giuste perché per il momento stiamo facendo decisioni giuste e sono felice comunque se non sbaglio sono 7 i cuori i container rossi che devo avere per sbloccare maggie e quindi in questo episodio arriveremo a 7 contenitori rossi lo giuro con tantissime g sono più ravi brah meno male che sono stupidi e lo stuprano no non sono più stupidi non lo stuprano più no si è fatto male no ok vediamo qua che cosa c'è the world sicuramente non un oggetto da utilizzare in questo momento boss rush forse si potrebbe fare la boss rush maybe yes maybe not eh suck head si lo prendo perdiamo quasi uno di quasi uno di danno però vabbè ne vale la pena ok ultimi colpi ultimi colpi buonissimo ok muorici mom's lipstick ok andiamo prendiamo questa batteria ci prendiamo questa questa carta non c'era non c'era niente quindi possiamo scendere al prossimo livello stiamo andando bene con eden stiamo andando bene io lo userei ora si dovevo usarlo un attimo dopo vabbè dai questo qui è solo fastidioso ma lo riusciremo a sconfiggere basta solo avere un po' di pazienza ok accidenti un bel po' di danno otteniamo ok allora io farei che andare per di qua no avanti qui sparate eh si però se tempo lezzi avanti spara potevi fare di meglio avanti sparate sempre al momento sbagliato ok oh bravi bravi ragazzi ah ho subito danno mi ero un attimo deconcentrato scusate è perché è tardi e quindi sono un po' stanco attento qua bombe ne è valsa la pena assolutamente sì ne valsa assolutamente la pena eh vediamo qua questo potrebbe fare una cosa tipo epica l'ho fatta la cosa epica beh più o meno anzi più che più o meno l'ho fatta e come occhi d'occhi scendiamo questi qui li possiamo anche sistemare senza lo shock da whoop che è una delle cose belle di usare eden è che utilizzi oggetti che di solito non usi e capisci la loro importanza lo so che questa cosa l'ha detta northern lion però lo dico anch'io perché è vero io allora ragazzi vi voglio chiedere una cosa non so se ve l'ho già chiesta o meno ma qual è il vostro se sempre se voi siete guardate solo me o cose non lo so ma se chi seguite di youtuber e isacchiani io ne seguo parecchi e ve l'avevo già detto in un video però ve lo ridico perché perché si ecco manca ancora qualcuno si manca i te manca i te è al party comunque gli youtuber che seguo sono di isac ovviamente hats quando faceva i video di isac ehm tear of grace anzi è stato tear of grace il mio primo youtuber isacchiano ad aver fatto ad aver seguito anche se in quel periodo ancora non capivo niente di isac però lo trovavo simpatico un gioco simpi anzi no il primo il primo in verità è stato lion lion faceva tempo fa ehm tempo fa lion era lion che faceva i stream di isac poi ora non lo sto vedendo più lion ma lo trovo un po' noioso ormai ok tu 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 ok stai creando ask stai creando un po' troppe ok bene questo un po' più un po' più di danno oh questo è bello lo prendo prenderlo mi dispiace ehm poi però ci deve anche arrivare un po' più di hp un po' più di salute perché sennò come facciamo a sbloccare maggie eh ve lo dici mh mh vabbè comunque oh oh come faccio qua come come eh no accidenti userei questo qui allora facciamo così usiamo the chariot nella prossima stanza che non sarà questa ma sarà nella nella course room quindi usiamola boom e bragni grazie grazie gioco per essere così simpi e poi andrei comunque in giro con emergency contact shup da whoop potete essere un po' migliore per favore please per please mister crocodile ok vediamo qui che cosa c'è the sun card io lo userei pop it now che cosa c'è qua non vale la pena secret room con niente un bel niente qua per forza un po' di monete la mosca non ci posso credere le mosche sono malvagie k posso vivere oh no no meno male ok qua speriamo di trovare un oggetto buono continuum beh che cosa fa continuum ecco cosa fa praticamente non esiste più la barriera che ci sarebbe stata normalmente e ad esempio posso colpire questo qui che è antipatico in modo molto più simpi ok questa stanza mi darà un po' di filo da torcere attenzione volevi volevi eh mio dio quanta vita hai è vero solo cioè cinque di danno non è neanche poco quindi vediamo se si dovevo vediamo se riusciamo a fare così ok meno male che si è comportato bene questo mulligan e non ci ha dato fastidio ok secondo me qua ci potrebbe essere una secret room oppure qua però secondo me non è là no è qua invece e ci avevo ragione ahi qua c'è mio dio quante batterie allora retrovision no grazie death the fool stars two of diamonds uh si io mi terrei the stars si war ciao war accidenti eh qua stiamo andando un po' maluccio di di vita ok uh stavo prendendo la rincorsa ok sistemato keep of meat grazie mille ecco che cosa abbiamo due pezzi di conjoined però sarei c'è un eternal heart grazie mille e quindi potremmo prenderli ma si dai rischiamo ci manca un pezzo per conjoined e un pezzo per conjoined è veramente poco ok facciamo così uno due no curse of the maze ok che bello curse of the maze intanto abbiamo un casino di non ce la facciamo a fare il boss e la boss rush con eden quindi utilizzerei questo immediatamente pesci ok un po' più di knockback e per un po' di squame anche in faccia oh mio dio qua bisogna stare attenti perchè non riconosco il mio sangue dal sangue degli avversari dovremmo fare una mod non so se esista la mod che cambia il sangue di tuo e dei tuoi alleati in qualcosa che tu riesci a riconoscere sarebbe figo proprio e questo sarebbe il mio momento ideale per ottenere uno shoot da whoop però possiamo combatterli non sono fortissimi appunto abbiamo 34 bombe e io una la userei qui per un po' di soul art uno soul art yes difatti non siamo riusciti a fare la boss rush ma tanto di partite con eden ne faremo tante quindi la boss rush per questa volta non sarà di certo un problema ok vediamo qua che cosa c'è risto però siamo nell'ultimo e quindi non ne vale la pena però varrebbe la pena sono stupidissimo ma tipo super stupido stavolta non donerei neanche sapete perché perché se no perderemo danno e non voglio perdere danno perdere danno è brutto ve lo dico io c'è chi dovrebbe dire che perdere danno è brutto anzi è ancora più brutto prendere danno ok dai aggrati su di lui che non sono io ok tutto qui uh 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 aiuto nope 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 stiamo rischiando tantissimo potremmo sicuramente fare satana perché abbiamo il goated e quindi possiamo e quindi possiamo fare appunto satana perché finché non abbiamo la possibilità certa di vabbè sto sparando a scienze perché ero concentratissimo tanto qua un po' di tears up uh uh porca puzzola ok allora qua dobbiamo farci furbi uno due tre boom e ora abbiamo tanto tanto danno in più sono felice di questa questa decisione potevo utilizzare anche temperance temperance però non ci ho fatto caso comunque essendo che abbiamo tutte forse ora sarebbe il caso di fare anche satana con eden come no era si doveva andare nella cattedrale eh si nella cattedrale per sbloccare quello usiamo oh come l'ho usato male qua eh shop da whoop poi una cosa non mi ricordo ma il brimstone funziona con eh mamma mia scusate sono stanco volevo dire ma il brimstone non funziona per caso con continuum perché se funzionasse sarebbe fighissimo e poi non vedo il motivo per cui non prendere la chiave che stava lì sopra essendo che abbiamo la bellezza di 32 bombe tanto ora non ci corre più nessuno quindi possiamo prendercela con comodo boom un'altra batteria quante batterie la cosa sia positiva che negativa di prendere di prendere suck head è la quantità di batterie che ti ritrovi che oddio sono pur sempre batterie però guarda no qua non batteria ok stiamo andando bene non c'è che dire abbiamo molto danno e molto probabilmente faremo satana lo sculacceremo ecco l'ho detto non so come ho fatto a non subire danno che poi allora ragazzi sapete quando molto probabilmente non riusciremo a fare maggie se vado avanti così quando romperò il gioco ecco si può rompere il gioco ed è una cosa meravigliosa però bisogna aspettare un pochino possiamo dire perché servono i requisiti gli oggetti necessari per poter rompere il gioco non è una cosa che dice ah oggi mi mi oh questo qui è molto utile little brimstone o homeling bundle io li prenderei entrambi perché sono entrambi forse non little brimstone non è necessario cioè siamo forti anche così senza di lui mi dispiace ma è così occhi d'occhi vediamo qua sistemiamoli così ora abbiamo mio dio judgment oh vale la pena secondo me vale la pena basta che mi dia qualcosa di mapping qualcosa di mapping ho detto sto cedendo danno per te non so se tenere ok ti faccio esplodere mi stai già antipatico the world questo è molto utile e justice che ok questo è accettabile allora quindi stavamo cannando totalmente direzione però almeno qua c'è una secret room con cose una pillola che cosa ci dà speed up e the lovers the lovers è totalmente inutile vediamo se il keeper questo keeper anzi questo corpo morto sarebbe in teoria che risap intanto si fa oh funziona oh oh bello me 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 piazza oh questa è cattiveria questa è cattiveria vera e propria two of clubs abbiamo 82 bombe ok facciamo così così possiamo anche accedere a quel cuore se mai ci servisse proviamo a usare un'altra bomba per prendere questa carta abbiamo fatto molto bene a farlo a fare così stessa cosa per questo boom tanto abbiamo di bombe da spendere esploditi esploditi un po' più di danno e questo cos'è the sun questo lo potrei utilizzare nel prossimo livello essendo che facciamo satana un jingle satana quello che vorresti sconfiggere boh a caso proprio dov'è eccolo qua ciao oh scusate ragazzi normale che ho allontanato il microfono se non si sarebbe sentito tipo un casino beh sicuramente si sarà sentito un casino vediamo se sparando di qua no stiamo facendo una cosa sbagliatissima a quanto pare the hermit no grazie preferisco the sun stiamo subendo troppo danno e questa non è una cosa buona ok boom boom dice dice shard abbiamo non abbiamo niente anche se è buono eh proviamo a usare dice shard tipo qua cosa mi da una moneta ok un po' più di danno ok non fatelo a casa è veramente uno spreco fare così però voglio andare avanti ragazzi e voglio anche cercare di non morire e di usare un po' più non so come sono riuscito a schivarla ok prendiamo quella bomba ah ho fatto un girone però e qua c'è la secret room come immagina come voleva si dimostrare health up no grazie hermatemesis no grazie i can see forever un po' inutile tears up idem quindi possiamo scendere ok due cuori rossi comunque ragazzi sapete che ora non so più se allora vediamo che carte sono non so più se fare satana o meno no non faccio satana questo danno mi ha fatto capire che sono troppo stanco per fare per fare satana e questa carta non mi aiuta e high priestess forse no no ragazzi ok allora allora facciamo così le secret room le abbiamo già le abbiamo già prese lì che cosa c'era una blood bank ah inutile la blood bank accidenti accidenti riproviamoci ok ok concentrati non non spawnare nessun mostro combatti ok ok qua c'è ok ok vi lascio il video non facciamo satana questa volta non credo con un cuore non credo proprio vabbè ci vediamo guardiamo guardiamo il video abbiamo sbloccato glitch baby e punto interrogativo punto interrogativo punto interrogativo anche the blue womb ma anche cioè punto interrogativo punto interrogativo punto interrogativo che fatica che è un nuovo personaggio blue baby ragazzi abbiamo sbloccato un nuovo personaggio che non è Maggie lo sbloccheremo un giorno forse comunque ragazzi per questo video è tutto vi chiedo di lasciare un mi piace commentate iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati condividete il video se vi è piaciuto e se pensate che avevo troppo poco vita per per combattere sakara e ci vediamo al prossimo video un saluto salato e ciao 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 Grazie per la visione!